Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo quattordicesimo episodio della Soul Link a Pokémon Rubino e Zaffiro Qui con noi ovviamente c'è Ma bella raga bentornati alla Soul Link Mamma mia Che bel baroccio Ragazzi premessa Eravamo fuori parte e Luke oggi mi sembra in forma Quindi potrebbero venire fuori le perle no Luke Mentre vattene alla palestra potrebbero uscire fuori le meglio cose di sé Quindi mi la fanno sintonizzata Già ha provato a cacciare due perle di saggezza fuori parte che non vi dico Comunque ragazzi o meglio Luke che cosa andremo a fare Siamo qua in mezzo agli alberi ragazzi Quindi direi di parte la palestra in questa città molto molto alberosa Che dice Vai 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 oggi raga Ci sta come piano Assolutamente si 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 C'è da divertirsi oggi raga perché veramente Ah si abbiamo allenato la coppia Abbiamo allenato la coppia di Luke non l'abbiamo detto La coppia ragazzi è un'ultima coppia che è formata da Ursuling e Salamence Guarda che più potenza Io e giù ho 38 Cioè ragazzi ma cosa dovete di più che ho detto tutto Cioè raga quanto siamo bravi Ma quanto è bravo il Luke soprattutto Tra l'altro vorrei far notare Luke al pubblico a casa Si ci dica I mirabili 86 PS del mio 82 PS del mio Salamence a livello 38 Cioè praticamente gli sputi a muore Invece ti voglio far notare una cosa Per esempio il mio Ursuling al 37 Ha 25 di difesa Quindi con un attacco turbo sabbia Crepa Molto bene Ok se ti può far piacere invece il mio Ninthens a livello 38 Ha 15 di attacco Cosa? Questa qui Oh mio dio Ha 15 di attacco Cioè praticamente neanche la stab con l'attacco più potente No praticamente usi per Forcorno che è fisica Non lo uccidi il Pokémon Fa l'eccezione Si uccide da solo praticamente Muore da solo Si autotira Hai presente la battuta quella raga La battuta quella del tricheco no? Che un tricheco dice un altro tricheco Indicandogli il petto Sei sporco qui Il tricheco si abbassa Cioè i denti a sciabola E si trafigge e muore Perché Questa qua è una perda che abbiamo Che ci carica per la palestra E raga oh è vero Cioè nel senso Non ci abbiamo mai pensato Se un tricheco si guarda la pancia muore Crepa ragazzi Praticamente fa l'autodistruzione E voi ragazzi Non ci avete mai pensato No perché pensate solo a voi stessi Uh chi ogre Esatto ragazzi Dovete pensare anche ai trichei Che fanno una butta fine Luke Luke ricordami perché Ricordami perché Esatto Chiamo star che è meglio Vabbè Tanto ho buttato giù un chi ogre Come se non fosse proprio sciallo Via Io sto andando con una tranquillità ragazzi In questa palestra Allucinante Che tra l'altro penso sia tipo Speculata rispetto a La cosa A smeraldo Cioè smeraldo era tipo Tutta dall'altra parte Luke ricordami Chi era Chi era venuto fuori prima Cos? Ricordami che È venuto fuori Chi ogre Eh wow Anche a me è venuto fuori chi ogre Ah ok Proprio normalissimo Sì sì Che è successo Mi ha fatto ieri di drago Mi ha fatto malissimo Bene così Tanto questo qua Allora sì Questo passaggio Mi ricordo che La prima volta che lo feci Questo labirinto Tipo non uscì Lo sclerone C'è tipo un punto più avanti Che tipo un suicidio Sì poi dopo Non sono uscito a fare abbastanza Insomma In tempi brevi Man mano che gli anni sono passati Quindi servi Ha sviluppato la sua potenza Esatto Perché se no qua No cazzo Critical Ma sei scemo Ma mi sta facendo malissimo Anche a me mi sta facendo malissimo Ma non solo Madonna Dai tossina No Oh ce l'ho fatta Perfetto Se mi aveva Cristo Lo sapevo io Che andavo a finire così Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Infatti mi ha appena avvelenato A me fa Veleno coda Ha fatta tre volte di fila E mi ha avvelenato Tipo due volte Grazie Sì Passiamo a Damo Il nostro padre Di sempre No vabbè Via via Raga cosa sta facendo Non lo so Raga Tanto Insomma a cosa che non ho gli antioti Quindi come faccio a curarmi Giò E bacche Eh non c'è anche quelle che mi curano All'avvelenamento Quindi mi tocca Tenere fuori Yes Che bello raga Bello perdere tempo così Eh lo so Raga noi dobbiamo tipo fare Tutte le catture di questo mondo Battere alice No niente Non facciamo niente No 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 Invece usciamo Entriamo dalla palestra Perché ci avvelenano Pensate che bello Questo episodio Oddio Mi stanno avendo le convulsioni Vedete lo scanno Serio Per l'avvelenamento Non peraltro Cioè Impossibile che larghi Pokémon Rubina Zappi Sennò 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 Abbastanza male Raga se non hai le convulsioni In Facecam Me la prendo No 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 Raga Ovviamente no Perché Magari poi YouTube Ci c'è in su Al video Per Contenuti Contenuti Euforici Esatto Contenuti Troppo euforici Quindi niente Non si fanno Non si fanno I big monica Madonna Luke Non so come andare avanti Dio buono Aspetta No vabbè L'ultimo pezzo Forse Leggimente più difficile Che scatto Dove devi fare tipo Il quadrato A un certo punto Forse aspetta Forse ho capito Ho capito Ho capito È perché sono scemo Guarda come si destreggia Guardalo Ho sbagliato Fantastico Ok Ti posso essere così Devo muovere questo qua Prima Cioè di qua Ok così Ragazzi mi raccomando Beh questo è l'abilinto Vogliamo un bel mi piace Del supporto Ricordatevelo Sì soprattutto Vi prego Venitemi a prendere Perché non sto capendo Nulla Chiamate il Il gendo di giotto Chiamate il C'è da di giotto C'è da di giotto Non riesco a uscire Sotto il porticato Di forestapoli C'è da di giotto Così E questa parte sarà così Raga Non avete Appena cominciato Siamo da 5 minuti E qui è già È la fine No Luke Guarda che sono Cioè sono serissimo Non riesco ad andare avanti No io Dopo che batto Questo qua che è l'ultimo San Flora Bene Ti faccio un calciardente Sui denti e via San Flora è un gran po' Boh Giova Devevi fare il quadrato Qua nell'ultimo labirinto E poi si è a posto Cavolata Fatto 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 Ma cavolata Due paia di palle Sono da lice Sì comunque Sia avevi ragione E dall'altra parte Un po' che mi ha smerato La Come palestra No Luke Luke sono incastrato Come faccio Devi fare il quadrato E proprio Dei muovere La piattaforma Cioè piattaforma Rimuovere quella roba Che c'è vicino Al tizio Supersegum Capì come faccio Eh Sono i trick Quelli belli Tipo Tipo quelle delle carte Poca Presente Io faccio il trick Pure qua E non riesco a passare Non passo Oddio Siamo tutti con te Dai Passano Aspetta Esco dalla palestra Raga Prendo un respiro E ci riprovo Un attimo Ciao Ok Perfetto Allora Dovremmo esserci Cazzo mi sono già bloccato No Cristo Ok Perfetto Perché Perché c'è un gastro Di tipo Di tipo spettro Ma Non dovrebbe essere Randomizzato Eh raga Il randomizzatore Di Luke Dovete sapere Che l'ha comprato Dai giappi E quindi Sì E quindi sono come quelli Da capture Praticamente In realtà È randomizzato Per modo di No Luke Adesso non riesco più Neanche a fare L'altro pezzo Serio Ma sei serio Io sono già Il secondo pokemon Che è che un avra Che lo buttano giù Con gran voce Come faccio Non è cavolato No Speramente Ok ok Ce l'ho fatto Questo ce l'ho fatto E l'ultimo E anche faccia Basta che prima muovi Quello vicino Al tizio biondo Sì E poi fai il quadrato Su E poi fai il quadrato Con gli altri due E' da cavolata Ragazzi Termini tecnici In cui Con cui Lo sto spiegando C'è veramente Devo muovere Mi stai dicendo Che io devo muovere Quello sopra Devi muovere Quello vicino Al stagione Eh ma tipo Verso che ore Devo Eh in modo Vettore Che tu lo puoi Quando fai il quadrato Poi riesci a passare Dall' Eh E come faccio Ah Aspetta Ok ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Sì No Vabbè Mi manda Lugia Sì Oddio Luke sai cosa mi ricorda Questa con Lugia Snakewood Snakewood Questa qua ragazzi Aveva Dark Lugia Neanche Lugia Ah vero Mi ricordo che c'era Quel fake mon di Lugia Adesso qua Me lo sto ribeccando Eh che fortuna Ok Guarda non vedevo l'ora La sto ribaltando Finalmente Eh beh Io sono È già È solo a 32 Però quindi siamo Abbastanza più forti Eh grazie Armaldo Un canto Veramente un simpaticone Di quelli Luke che non hai idea Eh mi sta facendo Continuamente minimizzato Quindi sarà una cosa Non rifaccio niente Eh Sarà un problema Eh io Non ho sveglia Né nulla Quindi proviamo a svegliare A far svegliare Proton Pioggia danza Aiuto mi sto cagando addosso Non so continuano a fare No Con psicoslange Brutte esperienze Ok perfetto Oh Gio È la quarta meditazione Gio Eh buona fortuna Raga pregate per rocce Tuna me nei commenti Per rocce Sarà una pozione in più Sì ma di che tipo è Cavolo Non Eh ma porca Di quella troia Oh ti rendi conto Che metodo del 50 ps con ira Come 50 ps con ira Scusa Metodo del 50 ps con ira Ma com'è possibile Il 50 ps con ira Non lo so Ha fatto 4 volte meditazione Ah ok perfetto Allora è possibile Ripensandoci Ok dai che ce la sto facendo Eh però la puttana Adesso utilizza la posizione Chi è il poco più difensivo che ho? Ma hanno tutti i venti di difesa Vabbè l'ho perso Ho perso la serie No Spero di no Però vabbè No dai Non è detto che io Dai metto un idolino Sono messo bene No fa pure No vabbè Ma c'è pure maledizione Dai no vabbè È buono che ci abbia maledizione Eh no perché No Gio L'altra maledizione Prendi di questo spettro Cazzo e allora ce l'hai poi Basta paralizzarmi anche te No niente Oddio ma di fuoco Impossibile Vabbè poi ha fatto pure 50 volte minimizzato 50 volte Madonna 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 No allora mi sa che cosa ha fatto qualcuno sicuro Dove la preparate a mettere via Ninthers No dai non mi fa evitare un altro episodio Ti prego Guardalo ma Oh Non c'è una mossa che sia super efficace Le provate tutte Tutte le sto parlando Eh non è che magari di tipo buio spettro No non penso Però io ho vinto perché il suo migliore era uno tutto Gli ho fatto brutta colpa con surf Buon dai Forse forse sta crepando Dai Eh ciao Eh ci Forse sta crepando No è per pozione No Gio basta Non ce la faccio più Eh vabbè minimizzato settima volta Bene ragazzi L'episodio può concludersi qua Io spero che vi sia piaciuto Se così vi invito come di solito A premere la campanella Per eh Cominciare a suonare le campane Per il funerale del Rochat No vabbè ma inghecente Adesso spero di confondere con sto di pugno Ma non lo attacco più Ho fatto minimizzato otto volte Niente non lo attacco più Gio Oh Luca Non mi scopo di attaccare Questo è un insegnamento che devi trarre Mai sfottere chi non riesce a superare i tornelli Ho finito i tipi di sol di pugno Non posso ancora più confonderlo Ok perfetto Se non ho messo bene Ok Posso colpire O se non so più con surf Fantastico Ok La cosa si sta tramutando in un trash allucinante Luke io che faccio adesso? Eh tu puoi fare tipo Non so Il picnic sull'alto di fuori Cazzo sono una scimmia Il creepy nudo balla Gio mi devo fidare a mandare snizzle con 21 di difesa Secondo me è crepa dopo 3 secondi Con chi è legato snizzle? Con uno dei due omastar Manda! Subito! Eh non lo so Allora io ci provo Però snizzle con 21 di difesa Io ve lo dico Se lo perdo Se prendo la sede Ira Oh mi ha tolto 100 PS con un Ira Mi ha tolto su snizzle Santo Dio Buono così Ok snizzle non posso mandare Tattica sbagliata Mando chrysard Ok io Luke Nel frattempo c'è uno strumento contaglio Io prendo un po' con contaglio Lo vado a prendere Allora E se fosse debola tipo terra? Andiamo Eh vabbè ma non lo attaccherò mai più Eh raga Qua ci stiamo Qua ci stiamo veramente una vita però Perché è indecente questo pokemon C'è Oh è debola la terra Però fosse tipo terra sola Eh lo so Ti capisco perché anche io raga C'avevo Prima con la battaglia Cono tutto Saranes C'aveva fossa Gli toglieva mezzo PS Oh addirittura Addirittura ha fatto Totalmente tante minimizzata Che non so Nemmeno più di illusione Gioco Oh no Pietra focaia Eh cosa faccio Eh Eh sarebbe stata utile Pietra focaia potrebbe Tornarmi utile in futuro Volendo Ha finito le mosse Oh mio dio Stola Stola E fargli arrivare Cioè obbligo ad usare scontri È vita rossa Gio È vita rossa Quindi lo so Forse vinco Però se c'è un'attacca O solo più una fossa O solo più una fossa Dai dai Luke Ce la puoi fare Ce la puoi fare Raga Non l'ho attaccato Veramente un like per il rocciat Che non ce l'ha fatta Evidentemente non hai lasciato like Tu che stai guardando il video Stavo Oh Gio Gio Io c'è entrato Il grottino solare Si può fare una cattura Secondo te Non c'è un grottino solare Controllo Eh volendo Proci surf No non ci sono proprio i poche Maggiore Mi pare che non ci sia Un po' Aspetta Provo a pescare A sto punto Tanto Mi arrivano Un Che tanto Non ha nulla da fare Parliamo Ok ho vinto Oh Bella raga Perfetto Ho vinto Madonna Però ragazzi Sul grande C'è Te ve lo dico No ok perfetto Non si trova nulla Ed grottino solare Non si trova nulla Vedi vedi Te l'avevo detto E raga Roger E te troppo avanti qua Sì raga MT40 Che contiene Non è l'assalto Da me è danza a spada Pensate No dai Beccata Beccata contiene Mi prendi per il culo Oh 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 Coerenza di Alice Che allena Pokémon Di tipo Coerenza Coerenza Sto paio di Tra l'altro Liuki sono sul Io sono sul percorso Sto cercando di seccare Qualche Pokémon a caso Tipo sto scritti Comunque Questa battaglia Sotto è molto difficile A meno da me C'è veramente Eh ovvio Ho visto Ho visto Ho visto Quindi c'è un nuovo percorso Qua sotto Ma sai che non lo so Penso sia ancora il 20 Questo sinceramente Sì C'è C'è quando arriva Tipo la strisce orizzontale Della mappa Le indicazioni tecniche Per identificare Il nuovo percorso Attenzione Questo camion ha mandato Gastri Subitroppo Haunter Chi è che ti ha mandato? Gastri Subitroppo Haunter Ah beh Quindi Diciamo molto Molto vario Molto Contiva la magia Della domanda Diciamo che spazia Sulle tre gen In una maniera allucinante Sì Sì Veramente Molto molto vario Magma Magma Oh mio dio Cosa? Un hoppip mi mi ha lasciato Con un ps Ursaring Ma come? Oh mio dio Non ho manco visto La mostra che mi ha fatto Però mi sono trovato Con un ps Non è che ti vota Ha fatto rimonta Non lo so Però mi ha fatto Aspetta che Madonna Mi sento Un hoppip Al 29 Io sono al 38 Ma dai No Non è possibile No no Te lo giuro Lancia fiamme Cavolo Cioè questo qua è brutto Cos'è Dopo quando stoppiamo Voglio rivedere la mostra che mi ha fatto Ma secondo me è rimonta Duke Ma a che vita Quanto aveva di vita Non è che c'è tipo Non è che tipo randomizzato Alla scena ninja E un ps No 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 Non so che Dopo Dopo quadro Oh raga Cavolo Okit ha utilizzato Una mossa One hit Che io e tu Hai tipo vigore No no C'ho Su Ursaring C'ho Veleno punto Ma no è assurdo Cioè parliamo È un hoppip Nel senso Non è che può avere Sì grandi statistiche Un hoppip è per di più Di dieci livelli inferiore Quindi Eh boh Assurdo Cioè pazzesco È assurdo Bella ragazza Vediamo chi coglie la citazione Nei commenti che ho appena fatto Ho trovato una bacca longa Bella la bacca longa La mamma si è famosa Nel senso La utilizzava mia padre Per fare la pasta Col tonno Ok Allora Qua c'è un botto di strumenti Messaggio ombre Mamma Allora Qua Gagnam è davvero fortissimo Ok Gio Io stavo sul 121 Sto battendo la streghetta Ragazzi Momento storico Ho appena switchato Cask off Con l'altro Cazzo di Omanster Maddonna Questi ragazzi Non scambio Guarda Non penso di essere sul 121 No no Oh stanno praticamente Non so C'erano No ok Mi stanno togliendo metà vita A Pokémon Ma tu stai balzando Tipo qualche allenatore Sì No sto battendo la streghetta Però non ce la faccio Allora Fammi mettere davanti Il grande E solo E divino ragazzi Cioè no divino no Perché l'unica divinità Qua è merda Però Patti comunque Se la gioca abbastanza Mister Mime Muori Vuole crepare sto coso No mio dio Raga Il paradosso Allora Sono Un Kingler Contro un Mister Mime Io gli uso Psicoraggio Lui mi usa Tenaglia Ok Perfetto Bene Non facciamoci Dope domande Non sapevo qualcuno Avesse usato Baratto di nascosto Guarda Ok È tipo Lugia Madonna Come tipo Lugia Serio raga Serio Ma Lugia di prima Intendi Sì Sto 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 Continuamente Sto Che vita triste Che ha Rochett Quando gli accadono Ste cose Aspetta No 120 L'avevamo già fatto Qua c'è qualche No dai Non volevo Ci chiedere All'allenatore Dai Gravel Però devi schiattare Figa Oh Ce l'abbiamo fatta Perfetto Butterfree 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 Guarda Aspetta Com'è che fa Butterfree Luke No Non so Butterfree Butterfree Mamma mia Quello così Questo qua Lo ricordano tutti Who's that Pokemon Oh C'è una cattura Gio Nel 121 Io ho trovato Un cloister Abbastanza Ostico Diciamo Possiamo dire Ostico Cos'hai trovato No ho trovato Un po' Un allenatore Come cloister Sì Io ho fatto La cattura Su 121 E' uno slow bro Oddio Sarebbe stata Una coppia epica Questa E appunto Per quello Che tu dicevo Perché sarebbe stata Una gran Infatti Sarebbe stata Spettacolare Davvero Minchio Non riesco a Butterlo giù Perché sto gagno Ma è scemo Nel cervello Proprio Scemo Nel cervello E' stupido Non attacca Guarda Sei sicura Minchia Ok Perfetto Sei sicura Dai Ce la posso fare La cattura Con questo slow bro Attenzione Su un carno Ragazzi Il pokemon Con le statistiche Più basse Di sempre Tanto L'ha avuta Diversa In questa generazione Ha un aspetto Diverso Aspetto al solito Vai vai Catturato Ho catturato Slow bro Ma sei che Non me ne so No Leggimenti Diversa Ma avevo di poco Secondo me Ok Dovrei essere A momenti Sul percorso Capiglia Mosche Maledetta No no Slow bro Il pokemon Pagurro No no Non fatevi mettere Certi soprannomi Perché non li metterò Però Non so come chiamarlo Il problema Quindi Non so come chiamarlo Lo chiamo Come lo chiamo Re leone Chiamalo Perché Re leone Una matata Ah ok In quel senso Non so Lo chiamo Hakuna Però Non ci Non ci Non ci Ho con nessuno Se chiama Che voglio Vabbè raga C'è il riferimento Nel senso Il riferimento Ragazzi Ci sta Ok Ok Lo chiamerò Appuna Perché Solamente Perché Poco Un pagu Non per altro Bello Revitalizzante Max Che non raccolgo Per lo zeno Bello Beh ma è utile Giò comunque Voglio riferire Qua giò Perché Eh io sto arrivando A fare la cattura Però solo che C'è 300 E no c'è 300 Allenatori in mezzo Li sto beccando tutti Dal primo all'ultimo Allora io vado Vado un attimo No non volevo Beccarlo questo Tu magari con volo Puoi andare a curarti Volendo in questo Ah già Che io ho C'ho smiso Uh Shedinja No ma ci difesa No ma ci difesa No basta No come Shedinja C'è allora Ma perché uno Deve avere giraci O nello stesso team È morto Chi è morto Shedinja ovviamente Ah ok Minchia Mi ho fatto cadere addosso Che infarto Pensavi Che mi è perso un po' Ma invece È morto E io Chi è morto Chi Oh io ho 5 ultra Spero che vada bene La cattura E No no Mascherin Mascherin Perché mascherin No è stato meglio Se fosse stato un Surskit Ma mascherin Meh Cioè non è che Siamo per tanta roba Proviamo a prenderlo Ultra ball vai così Ok l'ho preso Allora Velocissima Come mi dicono Cattura Cioè molto molto veloce Mascherin Mascherin Pokémon occhi Cos Pokémon occhi C'è L'organo Pokémon occhi Il Pokémon occhio Proprio Veramente bella Ecco Che succede Joe Joe Luke Che non me gli hai dato Scusa Bocelli 2 No vabbè Il ritorno di Bocelli Dopo la sua morte È prematura Oddio Tanto notare che Notate che slow bro Alla roccia di re Come strumento Se Si ti giuro E' di tipo fuoco Aspetta Io non ho Non avolo Lol Aspetta Io ho scato Lo scato a smiso Per dirti Quindi fantastico Vediamo che da me Puoi impararlo Sono patti E devo togliermi Che gli dovrei togliere Flash E non posso E gli tolgo Boh Gli tolgo La po' di l'ignoranza Boh danza spada In realtà ho tutte mostre speciali Quindi non vedo perché Avercela Sì alla fine Non è che ci serve tantissimo Allora Volo Poi ragazzi Nel prossimo episodio Andremo a Cioè arriveremo più che altro A Porto al Gheppoli O più ovvio Adesso andiamo a vedere Il nostro Bocelli 2 Ok Io tolgo Mi sono No cazzo Me l'ha messo nel box morti Perché Vabbè che non ci vede Promette male Allora Tipo lotta Guscio scudo Blocca i brutti colpi 20 di difesa 25 di velocità Va bene così Baron dei per zanna Super suono Pioggia e danza So quale pokemon Non utilizzare mai In questa serie Madonna E il mio Anche il mio Slobo Non è che aveva Delle belle mosse Aveva sassata Ferratilio Non delle buone mosse Vabbè Luke Direi che possiamo concludere Vai Gioco Quindi ragazzi Questo episodio Che è durato più del solito Può giungere al termine Io spero Noi Speriamo Che questo video Vi sia piaciuto Se così Vi invitiamo Come al solito Lasciate un bel mi piace Un commento Un'iscrizione A entrambi i canali Mi raccomando Passate dai social Sia i miei Che di Luke E cosa fondamentale Ma tipo fondamentale A parte la domanda del giorno La campanella Ragazzi Non dimenticate Di quella campanella Che deve essere premuta Veramente Quella campanella Per celebrare Il funerale Del rocet Che ha rischiato di morire E noi ci becchiamo In un prossimo Video Bye bye